Saranno cinque piccoli ricoverati del centro di riabilitazione agli angeli di Padre Pio di San Giovanni Rotondo con i loro genitori ad impersonare gli apostoli nella rievocazione della lavanda dei piedi di Gesù durante l'ultima cena che caratterizzerà la messa in cena domini che verrà celebrata questa sera nel santuario di Santa Maria delle Grazie alle 18. Si tratta di alcune famiglie che trascorreranno le festività pasquali nel presidio residenziale assistite dal personale medico, paramedico e dai religiosi della struttura che con le sue attrezzature di ultima generazione costituisce il fiore all'occhiello della fondazione Cenzi di riabilitazione Padre Pio Onlus dei frati minori Capuccini. La celebrazione sarà presieduta da frate Francesco Langi, guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e sarà trasmessa in diretta su Padre Pio TV, canali 145 del Digitale Terrestre e TV Sat 852 di Sky. L'emittente dei frati trasmetterà anche le altre liturgie del triduo pasquale. Venerdì alle 15.30 la celebrazione della Passione del Signore e sabato sera la Veglia Pasquale che sarà presieduta nella chiesa di San Pio da Pietrelcina dal rettore del santuario frate Francesco Di Leo. Nel giorno di Pasqua le celebrazioni eucaristiche più solenni si svolgeranno sempre nella nuova chiesa progettata da Renzo Piano. Quella delle 11.30 sarà presieduta da frate Francesco Langi, quella delle 17.30 da Monsignor Michele Gastoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo.